E' importante la data di inizio delle attività del cantiere della Nuova Pescara. Cantieriamo le esigenze, le risposte della Nuova Pescara facendo in modo che si cominci da subito a mettere al lavoro le strutture amministrative, non solo la politica, non solo i consiglieri comunali. Facciamo in modo che la provincia possa aiutare i tre comuni a cooperare e a collaborare. Facciamo in modo che Regione Abruzzo renda disponibile una figura su questo fronte. Una figura che specifichi, specializzata aiuti. E' possibile fare questo, lo si fa altrove, lo si può fare anche in Abruzzo rispetto a questa grande scommessa. Abbiamo fatto fare istruttoria favorevole dalla Ragioneria Generale dello Stato, da Palazzo Chigi, dal Ministro degli Interni, dal MEF per avere 5 milioni di euro nel 2022, 5 milioni di euro nel 2023, 10 milioni di euro per ogni anno fino a fare un totale di 10 anni di convenienze economiche. Questi sono i fatti che devono indurre, facilitare, spingere, trainare, ma serve cominciare ad operare. Per arrivare dove? Dobbiamo allineare i linguaggi amministrativi dei tre comuni, i linguaggi contabili, la tecnologia, coordinare le preesistenze dei dipendenti, fare una norma nello statuto che per esempio preveda capacità di correzione laddove nei primi 10 anni verranno fuori delle difficoltà. Non arrivo a concepire pescarexit, ma ci vogliono anche norme di salvaguardia. Il lavoro è tanto. Quando ci hanno consegnato nell'altra legislatura regionale il bisogno di fare una legge regionale abbiamo impiegato due anni per pensare due proposte di legge, tra loro prodromiche. Poi abbiamo impiegato due anni per fare approvare la legge migliore e poi l'abbiamo consegnata ai tre ordinamenti comunali per l'ordinamento della nuova città di Pescara. C'è da fare un intenso lavoro. Non sarà l'astuzia dello spostamento in avanti, la panacea. C'è bisogno di cominciare a lavorare adesso. Io non mitizzo la richiesta di proroga. Do valore all'inizio del lavoro.